Ancora pochi giorni di tempo per adeguarsi alle nuove norme finanziarie. Dal 31 marzo, infatti, i libretti al portatore, bancari o postali non potranno avere un saldo superiore ai 1000 euro, pena pesanti sanzioni pecunarie. Ad avvisare i possessori dei libretti e la di Consum, che avverte la sanzione in caso di infrazione è compresa tra il 10 e il 20% del saldo, percentuale raddoppiata in caso di saldo superiore ai 50.000 euro. In caso di saldo inferiore a 3.000 euro, ma naturalmente superiore ai 1000, la sanzione è pari al saldo dell'intero libretto. Ancora due settimane dunque per adeguarsi. I libretti dovranno essere estinti o riportati ad un saldo inferiore alle 1000 euro o trasformati in depositi nominativi. L'Associazione dei Consumatori ricorda inoltre che fin dal 30 aprile 2008 il possessore di libretto al possessore che intenda trasferirlo deve comunicare alla banca o alle poste i dati e l'accettazione del cessionario e la data del trasferimento. Le sanzioni restano identiche.